Il primo gruppetto degli inseguitori tra i quali riconosciamo l'I.K. Marinangeli quindi con il 103 Una caduta, non da biglame, spero che controlla tutto questo, tutto questo, non è niente Siamo anche riusciti al passaggio di questo istante, quindi Fioroni, quindi Carducci, Vetti, Pinelli Vediamo anche lo Fucci in un allo, quindi